Roberto, non possiamo che ripartire da lì, no? Da quella parola lì. Per Meloni non è una critica, ma è un insulto. È un ingaggio che io, come dire, rivendico e non è stato neanche una, come dire, scelta emotiva. Volevo dire ora basta, ora basta. Innanzitutto, la libertà di critica va commisurata al potere politico che io critico, nella giurisprudenza europea, no? Maggiore è il potere, maggiore è la possibilità di critica, anche ruvida. Quindi non ho speso quella parola verso una persona che non ha una carica politica, non ha potere, come dire, non può difendersi, anzi, è dentro la dialettica politica, è ovviamente il mio punto di vista. Allora, aggiungo un'altra cosa, che non è in dubbio la, come dire, la funzione del correlare. Io stesso mi sono difeso, per esempio, da Gasparri, quando mi aveva chiamato pregiudicato, ovviamente, falsamente. E io gli ho correlato e lui si è salvato non nel processo, si è salvato, si è protetto non difendendosi nel processo. Ma con l'insindacabilità. Certo, si è protetto con lo scudo da parlamentare. Quindi, certo che si può usare la querela, ma attenzione, io sto criticando il potere politico che in questo caso mente sistematicamente. Non è un'opinione politica dire che le ambulanze del mare sono trafficanti. No, basta. Anche in genere, la sinistra in genere, ma siamo stati troppo tenui nel permettere questo. È un'infamia e basta. Dov'è che inizia il dibattito politico? Come gestire l'emergenza? Come gestire i finanziamenti per permettere l'integrazione? Lì inizia il dibattito. I paesi europei come devono gestire le varie quote? C'è una parte che è una falsificazione e poi c'è una parte che è naturalmente dialettica tra destra e sinistra, tra opinioni diverse, ricette politiche diverse. Quindi il mio giudizio è proprio sul privato. Non c'entra più la politica. È un'infamia personale la vostra continuare a dire, come diceva la Meloni, non so se ricordi, cinque anni fa fece questo evento con un canotto, un canotto, un biglietto finto, chiedere ai trafficanti ricevi se fai il viaggio con il biglietto solo d'andata e ricevi la cittadinanza in omaggio, mentre stanno morendo persone, mentre le scene che abbiamo visto sono terribili. Ma senti, tu sei stato rinviato a giudizio per questo bastardi e effettivamente c'è qualcosa di un po' assurdo in tutto questo, che si celebre un processo. Molti giornali internazionali ne hanno scritto. Per l'Inghilterra e per la Francia è impensabile. È impensabile. Ma credi che la Presidente del Consiglio insisterà o ritererà la querela? Come a un certo punto sembrava che l'Avvocato avesse fatto capire, ma insomma al momento che sappiamo... Non ne so nulla. È chiaro che l'Avvocato sia stato sollecitato da un'agenzia francese che diceva che si rientrerà nella dialettica democratica e tutte le porte sono aperte, una cosa del genere è stata la risposta. Il fatto è che Salvini, con cui già ho un problema anche con lui, nel senso che c'è un processo con Salvini, Salvini mi ha portato a giudizio anche lui, come San Giuliano, cioè ho tre ministri di questo governo che mi portano in tribunale. E Salvini si è costituito parte civile. Certo, ha aggiunto. Perché secondo te? Perché non voleva farsi sfuggire l'occasione. È la sua battaglia. La sua battaglia è continuare a infamare gli intellettuali che decidono di smontare la sua narrazione. Continua a infamare l'ONG, tra l'altro ho ascoltato il tuo editoriale, hai fatto benissimo ricordare che è una piccolissima percentuale, quella che gli immigrati che arrivano in Italia salvati da loro. E allora perché questo odio serve un nemico? Serve un nemico e soprattutto non vogliono testimoni. Le ONG sono dei report di mare. Quella donna che urlava ho perso il mio bambino e che tanto mi ha fatto indignare se non ci fosse stato Ben Armes sarebbe ora in fondo al mare senza nessun tipo di narrazione. Loro non vogliono il racconto. Loro hanno bisogno di nemici e loro la stanno raccontando nel peggiore dei modi. In realtà gli è andata bene nella lotteria elettorale perché se tu metti il mirino sui migranti se tu dici che c'è un'invasione non c'è nessuna invasione. Nessuna invasione. E siamo 450 milioni di persone in Europa il 5% sono extracomunitari. Tutti autoctoni. Quale invasione? Senti, quindi in fin dei conti che cosa c'è secondo te in ballo in questo tribunale? Con questa sentenza? Sì, certamente è un messaggio che non è stato dato solo a me. Critica aspramente e paghi le conseguenze. Attenzione, quello che sta accadendo non è per nulla simile a quello che accade in Russia, in Turchia ma figuriamoci. Nulla di tutto questo. Non è che fai un tweet e ti vengono a prendere di notte. Non sono così. Quello che sta succedendo è che esattamente quello che accade in Polonia, in Ungheria si scelgono delle voci si scelgono dei volti si scelgono delle trasmissioni si scelgono delle personalità 10, 15, 20, poche anche per isolarle. Su quelle gli si rende la vita difficile. Perché così è tutti zitti tutti in silenzio non prendiamo posizione ti mandano i messaggi privati ma non si espongono perché se ci esponiamo vengono gli haters perché se ci esponiamo poi il film non ce lo finanziano perché se ci esponiamo in trasmissione non mi chiamano e poi si spacca i libri non li vendo e il giornale non ha gli inserzionisti questo è quello che succede e quindi tutti spaventati tutti impauriti non è solo con questo governo succedeva anche con gli altri governi questo ha una dinamica diciamo chiaramente molto più forte tu hai usato una parola molto forte che è democratura credo non so se il primo a usarla sia stato Ezio Mauro forse in Italia si cioè una crasita democrazia e dittatura si usa democratura per indicare appunto l'Ungheria il modello orbaniano per esempio qualcuno addirittura usa la Russia insomma ci sono le elezioni ma ci sono comunque regimi che sono più autoritari che democratici non ti sembra un po' troppo forte oggi per l'Italia? sì nel senso che siamo su quella strada e non riguardo l'intera dinamica politica per questo ho voluto fare il distinguo cioè quello che sta succedendo non è quello che sta succedendo nella Turchia di Erdogan per alcuni la situazione sta iniziando a diventare complicata i loro giornali fanno questo da sempre può succedere qualsiasi cosa sta per scoppiare la guerra mondiale ma mettono i nemici mettono i nemici sulle prime pagine dossierano pestano fanno questo sono mandati per fare questo nel tempo diciamo ne siamo stati testimoni sotto il governo Berlusconi ci sono stati gli editti ci sono stati diciamo i pestaggi da parte di giornali vicini o di proprietà di Silvio Berlusconi che differenza senti rispetto ad allora? beh che c'era maggiore resistenza dovuta ai numeri la televisione faceva altri numeri come share le vendite dei giornali erano altre e quindi tu avevi una comunità che resisteva maggiormente la dialettica diciamo con Berlusconi era possibile ancora averla c'erano insomma degli spazi veri adesso no anche perché mancano le risorse economiche mancano i numeri e soprattutto c'è la valanga social tutte le fesserie che raccontano sistematicamente si moltiplicano a dismisura sui social senza quasi possibilità di contenimento perché c'è bisogno di ragionare io come posso come posso in pochi secondi raccontare che non c'entra la tifoseria pro-NG o contro l'ONG c'entra raccontare cosa sta succedendo c'entra raccontare che è il coltan il problema le miniere che permettono ai nostri telefoni di ricaricarsi quello vale più di tutto devo raccontarti che cosa è il Congo devo raccontarti la menzogna che ci viene detta sulle guerre etniche tribali bugie vengono utilizzate le bande sì etniche o tribali come usano ormai dire i giornali ma in verità è la battaglia delle materie prime quindi io dovrei iniziare da lì a spiegare quei volti e invece la guerra non si fa a queste ingiustizie bestiali ma si fa alle ONG d'altronde Saviano ti leggo su Rave Party Ergastolo Stativo e Migranti abbiamo fatto le scelte molto nette che il nostro elettorato si aspettava se a qualcuno dispiace non so cosa farcelo dice il ministro Ceriani uomo forte di Fratelli d'Italia del governo fanno quello che gli elettori gli hanno chiesto di fare sì per certi versi sì ma vincere le elezioni non significa poi impedire al muscolo democratico di esistere cioè non è perché hai vinto le elezioni puoi comandare la democrazia non è questa gli piacerebbe ovviamente è quello che vogliono fare anche dall'ultima risposta non vedevano l'ora e si stanno vendicando non glielo permetteremo anzi resisteremo il più possibile cosa sta succedendo sta succedendo che mentono sistematicamente ancora una volta le ONG salvano solo dopo che la guardia costiera italiana ha autorizzato è sempre così le ONG sollevano dalle spese dalle spese enormi riempiono un vuoto che la si è certo perché la guardia costiera italiana se ricordi c'era Mare Nostrum un tempo c'erano le navi che salvavano i migranti adesso arrivano loro per esempio le ONG sono una risorsa condivido quello che diceva prima Giorgia dovresti parlare con chi è esperto e conosce di questi problemi non sono nemici anzi sono alleati i primi alleati sono le stesse che sono intervenuti in Ucraina e che hanno gestito i profughi ucraini che sono stati accolti il fattore di attrazione come sul tema falsissimo sono interessato a vedere i dati che cita viantedosi su Frontex che nessuno ha visto perché lo studio più importante gli European University mostra fatto da due italiani abilissimi mostra su una quantità abnorme di movimenti che si parte indipendentemente dalla consapevolezza che ci sia un NG mare o anche la guardia costiera addirittura si parte anche abbiamo le prove quando il mare è grosso quindi è una bugia non c'è nessun pull factor e in più ultimo forse vale la pena che lo accenniamo Convenzione di Dublino lo ricorderai è firmata negli anni del 90 attiva nel 97 firmata dall'Italia probabilmente su questo non si è mai fatto chiarezza per come dire rinegoziare in qualche modo il debito cosa diceva? diceva che il paese di primo contatto col migrante si deve occupare del migrante e Salvini non ha mai mai chiesto la rinegoziazione di Dublino quindi l'Italia ha accettato di fare qualcosa che adesso non vuole più fare hanno bisogno loro hanno bisogno loro di questa guerra perché così non si parla di tasse così non si parla di crimine organizzato e così quando parlano loro di crimine bisogna sempre ricordarlo spacciano i magrebini rubano gli albanesi e via di questo razzismo nessuno di questi può fare crimine senza l'autorizzazione delle organizzazioni mafiosi italiane nessuno senti veniamo agli altri provvedimenti di questo governo abbiamo cominciato con i rave party che cosa c'è dietro quella norma lì? i rave non c'entrano niente proprio assolutamente niente esattamente come con le ONG mettono un guanto mettono un guanto le ONG vanno a prendere i migranti per cercare di fare guerra allo stesso modo qui contro gli assemblamenti è un modo velocissimo e pericoloso so che verrà riscritta so che verrà riscritta certo però è un modo rapidissimo per poter intervenire o far partire anche indagini con semplici assembramenti è pericolosissimo per la libertà di espressione ma la fanno passare contro come se fosse stata una legge contro la droga le occupazioni abusive dici non si colpisce in nessun modo alla radice quello che è tutto questo anche perché ci sono già gli strumenti per fermare il narcotraffico certo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti